Salve a tutti ragazzi, sono io, l'internet youtuber, questa nuova parte dell'esplay di Banjo e Tui. Allora, sono pronti per andare in un nuovo mondo. Le industrie di routine. Allora, vengono qua, scappiamo un lato. Ecco. Ecco. Eccoci dentro, nuovo mondo. E' un po' madre che non si riempa. Per ora lasciamo perdere quella batteria che non ci serve. E' un po' madre che non ci sarà utile a petare. Ok. la stazione penso che sia anche l'unico modo per entrare perché le industrie sono chiuse dall'interno ok, fatto un fail usciamo altrimenti ci rientriamo però col treno perché in questo modo non possiamo non 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 mai però vabbè vabbè eccoci qua non 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 ma non Non c'è anche niente, ok? Andiamo qua. C'è molto riflesso, scusa. Non è ria. Ah, forse di là. C'è un buono fuori qua. Quello non ho capito più. Eh, ciao, vengono. Logo, cosa ci fai qui? Bene, come ti dà, mi ha spostato, ne ho portato via dalla sua vecchia casa e ha messo questo posto per il lavoratore. Non vorrei sapere. Non è molto divertente, qualcuno mi ha riempito di carta, ho veramente bisogno di sbloccaggio. Eh, lo faremo. Vedi questo è evitato? Eh, posso sentire la nuova, che sono nuova. Sto a vedere. Adesso, forse... Oh, è una pagina di cito. È una pagina di cito. Non usatela. Non usatela. No, abbastanza. Beh. Che... Cavolo. Guardate, nel sotto che si trova il mio vestito, bisogna qualcuno che me lo pulisca. Quattro di... Oh, rotto. Per questi... Ah, mi dice dove ci saranno i lavoratori. No. Alerta intrusi. Eh, sì. Attivate... Mi ha visto la videocamera. Quattro. Ok. Cos'è? Cos'è? Indossate questi... Per non cadere più. Potete camminare su un muro. Con Kazui che corre. Cos'è tutto? Missioni. Ah, sì. Un po' sbagliato. Non mi servono per ora. Ma per ora, però. Dopo sì, però. Potrei anche usare adesso. Però prima preferisco... Adesso che c'è un dentro. Apriamo lo sto cavolo di... Di porta. Cos'è meno... Non siamo più obbligati a venire con il... Treno. Ecco. Allora sì che si ragiona. Vado fuori un attimo un compenso da solo Sì sì dai dai sei un coglione Vado su Batteria Adesso sono 17 Un po' di serbe Un'arza Un'arzia poi Un'arzia Allora si può fare così. L'accesso è possibile, sufficiente energia, cioè batteria richiesta. È stata aggiunta l'energia orale, è possibile entrare. Ok, forse era meglio se prima passavamo di qua e dopo... Boh, vabbè ce l'ho fatto. Non è vecchia, no? Questa cosa. Dieci, nove. No, tanto per sapere cosa c'è qua. No, qua serve Kasui, penso. O no. Ah no, serve il Ranger. Quando... vedete? La Z e... e destro. Per dormire. Questo è tutto. Emissioni. No, guardate qua. Questo fa riempire la vasca di... Tossico. Vabbè... Non c'è un pulsante per schiacciare con Benjamin. Facciamo passare, dai. Vabbè, comunque ci sono delle note. Ma che... E cavolo! Fluttuo... In modo un po' strano. Quella cosa anche strana è che... Si sentiva Kasui, ma che Kasui non c'è neanche. No! Non respiro! Uff. Ok. Perchè sono ricaduto subito? Sono appena ri... Uscito? Vai! Va bene, dai. Sì. Aspetta bene. Vabbè. Facciamo qua. Oh cavolo... Intrusi... Il compatore... dove... Vabbè... Pulizia del... Primo piano. Cavolo. oh che bello lo schivato bello schivato anche questo allora a questo punto non ho nemmeno bisogno lo vedete io non d'accordo 50 g però questo non sono che di tornare insieme no ok ecco si dove è cas... ah non era... non era qua? ah era dove c'era il pulsante allora facciamo un'andella sola un attimo intanto il venger non è che aveva molto bisogno di un po' ma fuori vai intratto la nota da 20 questo qua come questo eh ma tu non lo vuoi e poi mi sa che ho bisogno... devo far cosi non lo vuoi e ritorno al su che è noia prendiamo gli stivali cioè stivali no... scarpe... con le ventose a dove vado ecco entriamo qua dentro vai ci stiamo un po' a caricare non so l'alga l'alga è un po' forfiggio ma è strano perché comunque è piano 1 ecco comunque non è emulatore è sulla... in piano 64 l'alga comunque è un po' poi intrusi all'erta alla difesa doveva difendere il tesoro di gruntillo fatto il Toulouse ha sconfitto i tiptops eh il tesoro di gruntillo è perduto Ehm, ora per andare giù lo facciamo tornare, senza ucciderci, bello, ci siamo uccisi lo stesso perché, vabbè, lo so il conto, dove mai dovrei andare adesso? Onestamente non lo so, ah no, forse sì, perché non so, no, 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 lo so, andiamo solo, no, sono solo uova, andiamo su, secondo piano, la cosa che è sbagliata, comunque, primo piano dovrebbe essere il piano terra, e questo dovrebbe essere il primo piano, e, vabbè, non fa niente, va, e, un globo, ma non ci serve per ora, trafummi, marci, quindi, non si può diventare di là, però, non lo so qua, però non vedo la telecamera, ah, ok, la vedo ora, no, no, mi sono sott... proprio sotto la telecamera, ecco, sento che si era riformata, che qua, ormai si ricreano i mostri, beh, anche meglio, perché sennò sarebbe troppo facile, che succede? ah, si apre la porta, per uscire, qua, cosa è niente, niente, allora usciamo? sbagliato... e, però devo trovare il posto per separarmi... Sì, va bene, ma un gingio viola, ok, però se ne posso separarmi. Ma basta con quella chiave inglese. Atenzione che appena sopra c'è una telecamera, quindi qua c'è un piano, proprio qua, eccola lì. Allora, possiamo di qua, se facci male, possiamo di lato. Eccola la separazione. Allora, vai. Quasi ci beccava la scossa. Ma vuoi farti becca? Ecco. Di qua. La tele dizionale è stata giuta, adesso si può entrare. Abbastanza senza anche aver bisogno delle scarpe così. Ah, ora posso saltare più in alto. Faccio vedere la zeta, ah, in pratica faccio una specie di ultra. Salto più in alto, cioè, mi do uno slancio. bello, bello, bello. E ora... bello, 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 bello. E' una scorciatoia. A no, ma aspettate, aspettate, aspettate. Per questa parte è tutto, troppo, sono 25 minuti. il tempo passa e neanche meccolo vabbè allora vengo qua vicino a questi due pad di separazione vi saluto ciao a tutti grazie per avermi seguito ci vediamo alla prossima